E' bella a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, questo oggi sono un nuovo video Raga, stiamo sulla reazione, la reaction delle qualifiche del GP dell'America a Austin, della Formula 1 Stamattina ho fatto la reaction della MotoGP in Malasia Ho ricevuto molte molte critiche, ho ricevuto anche il dislike di questo video Mi dispiace molto però, a me non me ne frega, niente dei dislike oppure dei haters che slantano qui sotto nei video Anzi mi fate, mi fate, come si suol dire raga, mi fa piacere che criticate perché così io imparo e cerco di migliorare Quindi vi ringrazio Raga che dire, Polposition di Valtteri Bottas Davvero, davvero incredibile questa Polposition di Valtteri Bottas Che è arrivata a sorpresa 12 millesimi di vantaggio su Sebastian Vettel Davvero, cosa sono 12 millesimi? Un bel niente, neanche mezza rota sono 12 millesimi Quindi davvero, davvero tantissima roba La Polposition di Valtteri Bottas Partendo in prima fila Bottas e Sebastian Vettel Poi c'è Max Verstappen con Charles Leclerc Poi c'è Hamilton in quinta posizione Davvero davvero in difficoltà Bottas potrebbe rinviare la festa di Lewis Hamilton Però è molto difficile che rinviare questa festa di Lewis Hamilton E accanto a Lewis Hamilton c'è Albon con la Red Bull Qualifiche molto combattute La pista migliorava e peggiorava Migliorava e peggiorava Poi all'ultimo è peggiorata Infatti non hanno migliorato Nessuno è migliorato Raga, però sono state delle qualifiche davvero belle Non mi sono piaciute Non so state forse come quelle precedenti Però mi è piaciuta abbastanza come qualifica Che a dire raga, se questa lezione è piaciuta C'è un bel like Facemi sapere qui sotto nei commenti la vostra Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Tutti il video Qu'ix C Ciao